la valle dell'adige il cornetto, il monte buondone sullo sfondo dell'omiti di brenta la valle dell'adige verso nord, la marsola, l'inizio della valsugana con pergine, il lago di caldonasso, la panarotta, il trabord, i ground light, la valle dei Mocchini e infine la valsugana con un pezzettino di laudilevico, quindi levico, caldonasso e poi l'altoppiano di vesena con il pizzo di levico, becco di filadonna, la valle dell'adige verso sud, ovviamente siamo sulla vigolana giornata spettacolare con una vista ovviamente spettacolare questo è il trantino giornata 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 Grazie.